La piazza Roma si è riempita ieri mattina con il flash mob organizzato da Special Olympics Italia in collaborazione con il Comune di Carbonia. La città è stata ancora una volta protagonista e location dalla quale si eleva un messaggio all'unisono. L'inclusione è possibile e lo è ancora di più grazie ai valori dello sport laddove tanti atleti con disabilità hanno trovato la loro strada senza dimenticarsi mai di vivere una vita da protagonisti. La piazza si è animata con balli e coreografie coinvolgenti sulle note del tormentone Sanremese dove si balla. Il cuore della città ha iniziato a pulsare con magliette e cappellini rigorosamente rossi indossati dai numerosi studenti dell'istituto comprensivo SATTA e del liceo Gramisciamaldi che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. Erano presenti il sindaco Pietro Morittu che ha ringraziato tutti per il messaggio di positività e i valori promulgati che hanno inondato la piazza, il vice sindaco Michele Stivaletta, le assessore dello sport Giorgia Meli e della pubblica istruzione Antonietta Melas. L'appuntamento, come hanno spiegato gli organizzatori, celebra il movimento, l'attività fisica, la gioia di esserci e di fare gruppo attraverso il ballo nelle piazze, nelle scuole, nei centri commerciali ovunque vi sia inclusione. Special Olympics è il più diffuso programma internazionale al quale aderiscono 180 paesi nel mondo, grazie al quale oltre 4 milioni di atleti con disabilità intellettiva compiono quotidianamente passi importanti verso una reale inclusione sociale attraverso la regolare pratica di una disciplina sportiva e costruendo un fondamentale percorso di crescita e di autonomia individuale. In vista del prossimo 3 dicembre, giornata mondiale della disabilità, su tutti i canali social di Special Olympics Italia verrà pubblicato il video finale che riunirà tutti i flash mob realizzati in tutta Italia, compreso quello andato in scena ieri a Carbonia. Le condizioni meteo di ieri mattina sono state clementi con un sole caldo intenso e luminoso, giusto il tempo di permettere lo svolgimento della manifestazione che non appena terminata come un cronometro ha lasciato la scena alla pioggia caduta sulla piazza come un sipario.